Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! No, scherzo. Io non faccio quelle brutte cose. Aspetta, per accenderlo lì, tre l'ho premuto. Cos'è acceso? Puoi parlare qua? Mi serve... è un po' brutto eh. Mi serve 3 vodka per Alexei, non per me. No, no, sì, ma è tutto libero fino al balco. C'è un passaggio un po' stretto. Orgasmi tu, di solito. Vogliamo fare una scuola d'orgasmo? Adesso. Tu simulo il tuo e io simulo il mio. In contemporanea. In contemporanea? Prima uno, poi l'altro. Se qua lo facciamo in contemporanea. Ok. Uno. Due. Così andava bene. A me così piaceva. Non mi ha appena. Non mi ha appena. Non mi ha appena. Prendiamo le cose, ragazzi? Prendiamo le cose dell'hotel? Vabbè, la porca che è sempre un po' di forno. Che cos'è questa storia? Quale storia? Che non vuoi fare l'amore con Alexei. Non è altro che non vuoi fare l'amore con Alexei. Buonasera. Buonasera, divertite. Buonasera. Che soldi? Cos'è che mi succede? Racconta. Stavo lo psico. Ti faccio vedere i tatuaggi così ho più possibilità di essere attraente. Che dopo ieri? Come si è comportato con me? Aspetta, aspetta, aspetta. Siamo arrivando a cose non reali. Io? No. Ah, ok. Simone. Sì. Ma che cazzo c'è? Continua a farlo, continua a farlo. E di chi stai evitando. Non vediamo. Un po' tantissimo. Allora no. Amore? 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 Amore, Martina. Fubè, ci sei? Io metterei in rischio la mia relazione per te. Ma hai detto che non c'avevi? No, la relazione social diciamo. Perché noi che siamo lavorando sui social. Capito? Magari... Dai, parella, la tua fidanzata. Chi? La tua fidanzata, amore. Ah, non sono d'accordo con te. Fubè, Fubè. Via Martina, via Martina. Via Martina. Nel club? Mentre facevi il tuo spettacolo. Ah, mi hai visto? Ti era piaciuto? Sì, ero giù ad Alba Adriatica. Ah, sì, mi hai detto! C'era un mio amico che era come se stava allo stadio. E io ero un po' imbarazzato in quel momento. Mi guardate negli occhi di una sera bella porta. Ognuno... Ognuno... Ognuno poi... Ah... Mi tiro bene giù, eh. Ciò si può, si tira bene giù, tranquilli. È partito un... Pass shot. Come senti il mix se lo tengo così, Alexi? Ah, servono due mix. E come presento io? No, no, non ho niente. Gioco io. Ok, quindi team voi due... Gioco io di qua, vai. Hai tre noi? No, no, Fubè, no. Fubè, no. Fubè, tu giochi con me. Fubè, dai, vieni. Fubè, dai... No, fubè, dai. Là ticendo, la ticendo direi con i pe... Da qua, da qua, là... Che c'è? Che c'è? Ahahahah... 合ah... Così andava bene, a me così piaceva. Non mi ha affine. Ahahahahah. Così mi piaceva. Ahahahahahah... così meglio lui è il mio stilista lui fa il cantante io lo pago per fare una massaggiatrice dai non sono uno stento piccolo elfo un po' cibo come che ti prende amore dai non sono uno stento piccolo elfo stai facendo così basta come fare la mia mamma mi ha detto una cosa quando sei assoluta con una ragazza devi dargli non posso zoomare questo è il massimo ma non chiedere fallo senza dirlo vai bravo ma sul collo a me non piace simo non devi farci sentire sei stupido simo ok adesso posso? si vuoi togliere senza posso farlo bacio bacialo bel piedino aiuto perché mi vedi così vai vai shhh trovo sento volevo guardarti volevo vedere cosa si prova guarda fupe vedi farò che ti inserisino la cintra in subito eh questa è già bella no è solo per curiosità chissà cosa si prova fupe guarda che le piace se glielo dici fupe non devi continuare diventati a me e istigazione poi l'istigazione può scaturire tanti fattori anche il divorzio no la malattia ragazzi c'è altro problema vedete davanti che tu tiravi i piedi dopo i geniuti puzzano noi abbiamo fatto il test abbiamo pulito il comarece però si ma poi per favore no non mi ero prego ma la mia ma la mia ma la mia ma la mia no dai ti prego fupe no no andiamo qua ragazzi fateci pure le domande siamo qui leggiamo pure le domande fate qualsiasi tipi di domande che io fupe le riceveremo ragazzi non sono disabile ok no no ragazzi tutti in piedi si si dobbiamo fare un tiktok tutti insieme tutti insieme questo è un tiktok allora voi eh no si ma dici come mi stanno tirando un trend marty no ragazzi bordo per tutti come perchè stanno tirando un trend ah si eh eh fate uno spaccato qua eh e questo ce l'abbiamo proprio creato noi capito e quindi dovete essere sicuro quello che facciamo noi capito voi mettete dietro e facciamo tutto io adesso si dice a farci non l'hai caricato? guardami a fare ma sei stronzo a me non piace ma che c'è ma che c'è Simo non devi farci sentire ovviamente Simo ok adesso D D parla in generale di qualcosa e inizia a dargli i bacini inizia a dargli i bacini sulla guancia inizia a dargli i bacini sulla guancia inizia a dargli i bacini sulla guancia di nuovo non c'è non mi piace il contatto come vuole anche a me poco che cazzo mia allora guarda le capezzi e fisse e di minchia sembrano i viti e sembrano i viti e così vai c'è vabbè passione nuovo scena io ne so gli occhi l'ho vista eh io ne so gli occhi tu mi guarda più a me mi sceglierai di testa non ti ricordi la scaglia? ahahahah vabbè 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 non ti ricordo questa perchè la c'abbia tutta un po' di testa eeeh 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 grazie ehi oddio che succede qua? tutti c'era l'anastico? si nel due se frattino un po' da lo faccio anch'io allora l'anastico no non lo faccio non lo faccio non lo faccio quindi la sua risposta è per lei questo all'anastico